Se io potessi scrivere tutto, farei stupire il mondo. Ciao, io sono Giulia Benedetti, alias La Viaggetrice Immobile, e il libro che presento si chiama La Bastarda degli Sforza di Carla Maria Russo, romanzo storico incentrato sulla vita di Caterina Sforza. In particolare, il romanzo si focalizza sulla giovinezza della nobile donna, concentrandosi sul periodo del matrimonio con Girolamo Riario, mettendo in luce i pregi, l'intelligenza, la forza, il coraggio di questa donna talmente straordinaria da riuscire a prendere Castel Sant'Angelo con un solo pugno di uomini e da tenere testa al Vaticano. È un libro appassionante, avvincente, coinvolgente, a tratti realistico e violento come solo la vita può essere, avvicinando il lettore alla personalità affascinantissima della famosissima Tigre di Forlì.